Dopo il lockdown anche i centri estivi hanno riaperto i battenti. Questa mattina l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti ha fatto visita alla sede del Gas Gas in capo ai servizi sociali che quest'anno per enorme anticontagio sarà suddiviso in quattro sedi. Via Campania, Oratorio San Cristoforo, Scuola Raggi a San Lazzaro e Scuola Materna Bimbe e Bimbi a Bellocchi di Fano. Per l'occasione erano presenti alcuni rappresentanti dei centri anziani e una delegazione della GFH che hanno donato 2700 mascherine ai bambini. Alla distribuzione di oggi ne seguirà un'altra a lunedì prossimo quando riapriranno i centri estivi privati e quelli in capo ai servizi educativi. Gli anziani e i familiari dei disabili in questi mesi si sono adoperati per fare queste mascherine colorate, fantasiose, proprio per metterle a disposizione dei bambini che frequenteranno i centri giochi. Poi le distribuiremo nei prossimi giorni anche ad altri bambini. Si sta ipotizzando anche l'ipotesi di darli nei singoli stabilimenti balneari, quindi una quota. Però ecco, sono per i bambini dai 6 ai 11 anni, perché sotto i 6 anni non c'è l'obbligo di portarla, ma è solamente un gesto di attenzione, io credo di genosità, che simboleggia anche una qualità di questa comunità. L'Associazione Genitori con Figli Portatori di Endicap ha realizzato le mascherine nell'ambito del progetto Imparare Facendo, attivo dal 2018 in una celletta della Rocca Malatestiana. Noi volevamo restituire alla città qualcosa che potesse far riprendere la libertà, il piacere di rifrequentarsi e di conseguenza i bambini che in qualche modo sono stati più penalizzati, perché di fatto non hanno avuto modo di frequentare i loro amici né a scuola né a casa, e quindi ci siamo prodigate per fare queste mascherine e ne sono state fatte 1.400 da noi, 1.350 e poi dal circolo anziani. Quindi è stato un lavoro di squadra, perché diversamente non si sarebbe potuto fare, ma questo ci ha fatto capire che solo insieme le cose si possono affrontare. Ancora una volta, spiegano invece Sauro Berluti e Giorgio Falcioni, gli anziani della città si sono dimostrati un valore aggiunto, un circolo ricreativo, è un luogo di socialità e aggregazione dove i soci non perdono mai l'occasione di collaborare attivamente con la città. Queste mascherine sono state realizzate secondo la disponibilità, a chi qualche circolo ne ha fatti 50, a chi ne ha fatti 100, a chi ne ha fatti 300, quindi ecco c'è stata una moltitudine di partecipazione. Finito questa attività siamo in questo momento al lavoro per riaprire i circoli di questa città. Abbiamo già consegnato sabato il materiale per l'igienizzazione, per la misurazione della febbre, per le mascherine, la cartellonistica e quant'altro a otto circoli e martedì, domani, procederemo nel completamento di questa operazione consegnandola agli altri circoli, agli orti e compagnia bella. Quindi speriamo entro la settimana che tutti i circoli della nostra città possano riaprire in sicurezza.